Da sette anni quella che era la scuola media di Sassa giace nel più completo abbandono. Nel terremoto è stato un rimessaggio della protezione civile, una sorta di magazzino. Ora giace nel più completo abbandono, è diventata una discarica a cielo aperto. Chiunque, soprattutto, può entrare nella scuola. È molto facile, è stato spaccato il vetro. Chiunque può entrare qui, dove ci sono computer, c'è ancora materiale didattico, c'è un po' di tutto, ci sono generi alimentari. I residenti chiedono maggiore attenzione e chiedono soprattutto al comune di essere chiaro, di dire chiaramente ciò che si vuole fare di questa scuola. In un primo momento la scuola media di Sassa era stata oggetto di una donazione del dopo sisma da un comune del Veneto. Fondi dirottati altrove e da lì il nulla. Di sicuro la nuova cittadella scolastica sarà realizzata altrove, ma dopo sette anni il comune dell'Aquila ancora non chiarisce cosa vuole fare del plesso scolastico di Sassascalo, ormai inagibile. Per gli abitanti della frazione aquilana la situazione non è più sostenibile perché la scuola giace nel più completo abbandono. Pericolosa anche perché è facilissimo entrarci. Da subito dopo il terremoto è stata abbandonata perché la scuola è stata danneggiata. In un primo momento la palestra è stata occupata come deposito della roba che veniva distribuita. Al campo c'era un campo base qua nei pressi, un campo d'accoglienza per le persone che erano rimaste senza casa. Quindi in un primo momento è stata usata solo la palestra. Poi è stata abbandonata completamente e si vede tranquillamente che è proprio in uno stato pietoso. Al comune si chiede di decidere di intervenire, magari di creare lì un punto di aggregazione a servizio della gente. All'interno tutto come sette anni fa, nel più completo abbandono. Giacciono computer, materiale didattico, beni alimentari, scatole di pasta ormai scadute. Noi come abitanti della zona, io in prima persona, come persona piuttosto anziana, mi piacerebbe, visto che non c'è nessun punto di aggregazione, questa è una zona, la zona di Sasa, che non ha una piazza, non ha un giardino, non ha un punto dove si si possa aggregare, anche tra persone piuttosto anziane, dove si possano portare i bambini. Qui sono solo strade, solo strade dove passano tante macchine. Quindi se è una scuola che sarà destinata ad essere abbattuta, io chiederei come abitante della zona che venisse realizzato un piccolo parco, una piazzetta. E si è ipotizzato anche che la scuola sia diventata negli anni una sorta di giaciglio di luogo di ricovero per povera gente che non sa dove passare la notte.